Salve amici, siamo giocatori per caso, altra sfida della settimana 7, lancia una clombacca entro 10 metri da un clombo a questa è bellissima, mi piace un sacco, i clomboli adoro, ma iscrivetevi al nostro canale perché mi stiamo mettendo tutte le sfide di oggi abbiamo già pubblicato i giorni scorsi come dare le clombacche a clombo e che cos'è un clombo abbiamo fatto anche uno speciale sui dinosauri spiegando tutto allora le clombacche sono queste, voi potete romperla con una mazzata e vi appare qui per terra la clombacca oppure potete raccoglierla col tasto E, non vi sto a mettere una mappa con tutti i punti dove ci sono le clombacche perché ce ne sono ovunque tutta la zona verde diciamo ci sono clombacche e anche un po' dove c'è il ghiaccio, nella zona del deserto non ci sono poi la cosa successiva da fare è cercare un clombo, chi è clombo? è questo bestione qua vedete quanto è bello e simpatico, è proprio simpatico l'unica differenza tra le sfide precedenti è che dovete dargli la clombacca quando siete a un massimo di 10 metri di distanza ma tranquilli, non vi fa niente, lui è simpatico, è un amico dovete dargli solo una clombacca stando al massimo 10 metri, quindi mettetevi pure davanti, tanto non vi fa niente, è simpatico bene, anche questa sfida è finita, ci sentiamo tra poco per le altre sfide se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche